un ritorno al camaro dove peraltro insomma i risultati erano stati molto positivi si è stato un ritorno voluto sia da me che dalla società ne sono veramente contento stiamo iniziando nel migliore dei modi per cui credo che ci siano tutte le condizioni per poter fare una bella stagione gruppo rinnovato c'è una certa continuità anche a ragazzi che l'aveva guidato l'anno scorso ci sono due ragazzi che erano alla ceramistina l'anno scorso che hanno fatto gli allievi nazionali e poi un gruppo totalmente rinnovato tra 2006 e 2007 comunque importanti lavorate già da un mese e mezzo e forse si è visto già all'esordio sì nonostante da tre settimane in quasi un mese comunque c'è stato un buon esordio speriamo di continuare così ripeto ci sono le condizioni per poter fare veramente un anno importante quali gli obiettivi magari pensando anche alla sua precedente esperienza insomma non nascondete una certa voglia di fare bene sì la voglia di fare bene c'è però la cosa importante fare crescere i ragazzi e cercare di portarli comunque ad un livello superiore lavorate qui a bisconte e rispetto magari ad altre realtà è già un punto di partenza importante dal punto di vista logistico una struttura che probabilmente agevole il vostro lavoro sicuramente la struttura importante società importante per cui come detto prima ci sono le condizioni veramente per fare bene e soprattutto divertirci che campionato sarà c'è qualche avversario in particolare da tenere d'occhio e non lo so avversari magari doni a riposto taormina folgo le stesse è un campionato particolare poi quest'anno ci sono state delle riforme che porteranno le migliori a fare un campionato d'élite e quindi speriamo di riuscirci e portare avanti la stagione migliore di modi